Lidia, come arriva, da dove arriva la storia di Come pecore in mezzo ai lupi? Questa storia nasce dalla mente geniale, a mio avviso, di Filippo Gravino e Matteo Rovere me la propone. Aveva degli elementi che mi hanno conquistato immediatamente, che sono innanzitutto avere al centro della storia un rapporto tra fratelli e una cornice di genere, per me molto riconoscibile e che amo, appunto il mio percorso professionale è legato a quello del mio produttore Matteo Rovere che mi conosce molto bene, sa che questa era una storia che potevo amare e infatti è stato così. Per cui quando l'ho letta è scattata la famosa scintilla per cui ho sentito non solo la voglia di farla ma anche di farla mia e da lì è iniziato un lavoro innanzitutto con Filippo Gravino e poi finalmente quando sono entrati loro sui personaggi, che era un po' quello di cui avevo voglia di dedicarmi dopo essermi dedicata di più alla regia tecnica delle scene d'azione o sulle serialità dove c'è comunque un tempo e un ruolo molto diverso. A proposito di personaggi, Isabella, Andrea, come avete costruito i vostri personaggi, l'evoluzione, il percorso che avete fatto? Beh, è stata proprio una costruzione nel senso che abbiamo avuto il tempo e l'attenzione prima di iniziare il film sia da parte della produzione, di Lida, che teneva particolarmente a questo momento, abbiamo proprio lavorato sia sulla sceneggiatura, provando, cercando di capire da dove vengono, qual è la storia di questi personaggi e poi rispetto ad altri film sicuramente la componente fisica e con corpo dell'attore intendo tutto il modo in cui si muove, come cambia il corpo, nel mio caso anche la lingua, appunto il serbo c'è stato il tempo di prepararlo, quindi arrivare poi sul set pronti per semplicemente sentire, ascoltarsi e sentire, vedere e far accadere qualcosa. Sì, io devo essere sincero, è stato uno dei progetti nei quali mi sono sentito sul set più libero in assoluto. Io sono un attore sempre molto schematico, molto preciso, so, difficilmente vado a fare una roba che non ho già pensato e invece lì era successo qualcosa al contrario per cui il tempo di preparazione ci ha dato il modo di assorbire così tanto i personaggi che poi veramente io ho fatto dei ciac che poi forse sono stati buttati perché erano, erano, io ero proprio a piedi libero io sentivo che potevo dire qualunque cosa, potevo, perché ormai era parte della sfera e questo è stato bello e ho cercato poi di replicarlo nei film che ho fatto dopo, in realtà sì. Ma voi già vi conoscevate, com'è stato l'elaborazione del rapporto tra questi due fratelli? Ah, io e lui? Sì, sì. No, non ci conoscevamo. No, beh, io conoscevo Isabella Aragonese perché è Isabella Aragonese da sempre. Da sempre, da sempre, da sempre, io voglio fare questo endorsement a Isabella perché è un'attrice che forse è stato uno dei motivi per cui ho iniziato a fare l'attore io ho amato i film che lei ha fatto, no davvero, nel senso io avrei voluto fare i film che ha fatto lei dopo così poco che aveva iniziato a recitare e invece ancora sono qui che... Ancora con i quali fare come Pecone. Un gran complimento. Ma adesso non posso più parlarmi. Invece i riferimenti estetici per questo stile, per questo genere e non soltanto, quali sono per te? Mad Max mi sembra a livello di colori... Beh, in realtà Mad Max è proprio come se fosse da pregare ogni giorno per me. Ma a me piacciono, è molto vasto, io sono cresciuta con i film degli anni 90 e anche quelli che arrivavano negli anni 90 con una lentezza infinita molto cinema di genere, di tutti i generi, poi potrei fare un elenco di milioni di registi ma non so neanche se abbia senso però sicuramente proprio nei vari generi, anche se poi anche il termine genere è abusato perché un po' tutto è genere perché è anche una commedia, però diciamo che se devo definirlo maggiormente per me sono il thriller, l'horror e il western questi sono proprio i miei mondi in cui sguazzo come spettatrice e cui poi ammiro come realizzatrice. Grazie mille. Grazie.